Cargiver domande e risposte. In caso di disabilità che richieda interventi infermieristici come piaghe da decubito o l'inserimento di sondini per l'alimentazione, a chi rivolgersi? Fermo restando che deve essere valutata la singola situazione specifica, nei casi in cui sia stata attivata l'assistenza domiciliare integrata. All'assistito deve essere garantita la presenza, secondo tempi e modi specificati e necessari per la singola situazione, di personale specializzato che svolga trattamenti specifici.